buon pomeriggio cari amiche cari amici buon pomeriggio vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video un video importante perché vi diciamo ieri vertice a casa milan tra tutte le componenti del staff tecnico staff sanitario dirigenti per capire come fermare l'emorragia di infortuni è chiaro che in questo momento a metà stagione cambiare radicalmente la metodologia magari come immagino io cercando di diciamo aumentare la forza dei giocatori esercitare la forza coltivare la forza potrebbe diventare addirittura deleterio sono esercizi sono diciamo attività che debbano essere fatte di solito all'inizio della preparazione addirittura come compiti delle vacanze per i giocatori che da grandi professionisti certamente coltivano il loro corpo anche durante le vacanze estive quindi incominciamo non ci può essere un radicale una radicale trasformazione un radicale cambiamento delle metodologie ma qualcosa si deve fare l'hanno capito tutte le parti e soprattutto credo che l'abbia capito la parte tecnica perché è inutile girarci intorno oggi ho letto che verranno cambiati dei fisioterapisti ma i fisioterapisti non c'entrano assolutamente nulla circa il problema riguardante gli infortuni al limite allo staff sanitario ai fisioterapisti si può imputare in caso di recidiva in caso di ricaduta cosa che non è successa non è successa in questi mesi chiaramente non può essere il fisioterapista che crea un problema muscolare al tendine del muscolo della parte dietro della gamba cioè al flessore il fisioterapista al medico al limite cura cura quello che deve essere curato a causa dell'infortunio quindi questa cosa mi sembra francamente abbastanza suggestiva dunque si deve studiare la preparazione per quello che si possa fare durante la settimana cercando di potenziare senza esagerare proprio la muscolatura. Parlando con Luca Didi che ovviamente conosce anche i segreti degli allenatori mi diceva che le sue informazioni Pioli predilige le esercitazioni tattiche a caldo cioè con il pallone partitelle per esercitare per studiare i movimenti è una metodologia chiaramente che ha portato il successo che ha portato al Milan ma magari non vengono prese in considerazione la parte più specificatamente atletica e allora si è cercato di trovare una soluzione è ben presente nella nella situazione anche la proprietà americana anche Jerry Cardinale che è stato informato ma poi lo vede anche lui vedendo le partite perché quando è negli Stati Uniti ovviamente quando gioca Milan è davanti alla tv e sta appunto incominciando a insistere perché questa situazione venga risolta quindi ci sono tutte le componenti proprietà società parte tecnica parte sanitaria è troppo tardi può anche essere che il che sia già abbondantemente fuggito dalla stalla e sia lontano però qualcosa bisogna fare e i i spioli i suoi preparatori lo staff sanitario hanno concordato probabilmente un modo di lavorare comune per risolvere la cosa non si può più continuare così sì ovviamente questo porta problemi alla classifica problemi di risultati problemi di prestazione ma anche problemi di mercato perché il mercato del Milan che in teoria tre quattro mesi fa non sarebbe servito perché c'erano i difensori centrali al limite magari un giocatore di fascia alternativo a Teo Hernandez o eventualmente una punta visto che Jovic non stava rendendo qualche mese fa poi con la caduta di tutti i giocatori anche dello stesso reparto si è incominciato a pensare di prendere un difensore centrale che sono diventati due poi si è posto il problema della punta vale sempre il problema di Teo Hernandez a meno che si debba puntare decisamente sui giovani intanto Simic non può giocare in Europa Bartesaghi è entrato bene però insomma essere considerare Bartesaghi l'alternativa a Teo Hernandez insomma anche nella continuità perché un ragazzo può fare bene un quarto d'ora mezz'ora magari una partita ma non credo che possa continuare in continuare la sua continuare le sue partite una dietro l'altra come se nulla fosse quindi perché ha dei dei problemi non è magari abituato alle sollecitazioni partita dopo partita quindi sarebbe decisamente un rischio ecco perché adesso il mercato nel Milan è diventato un mercato molto impegnativo ieri Giorgio Furlani al termine della riunione di Lega ha detto non è previsto questo non è previsto l'altro ma indubbiamente c'è anche il problema che sta nascendo a centrocampo perché Pobega ha letto due mesi oggi signori parliamoci chiaro due mesi se non deve essere operato come ci auguriamo ma dato che è paventata l'operazione i due mesi diventano 4-5 quindi lo perdiamo praticamente quasi fino alla fine del campionato perdiamo benasser perché andrà in coppa d'africa sembra che dopo le prestazioni se la senta perdiamo krunic che fuori completamente dal progetto non sono ancora arrivate non sono ancora arrivate offerte si dice dal fenerbace però è totalmente non si scalda nemmeno krunic è fuori dal progetto krunic a meno che di di pensieri diversi improvvisi non è fuori dal progetto quindi il Milan in questo momento ne aveva aveva krunic musà reinders loftus chic pobega adli ne aveva già sei sei i tre nuovi loftus musà e reinders tre pobega krunic adli e benasser ne aveva sette sette giocatori adesso sono rimasti a gennaio rimarranno adli reinders loftus chic reinders loftus chic e musà ne rimangono solo quattro in un centrocampo che gioca spesso a tre capite che la situazione perché anche adesso se andiamo anche a prendere il giovane Zeroli Simic Zeroli Camarda e Bartesaghi non esageriamo quindi anche per quello che riguarda il centrocampo per il mese di gennaio si si può rischiare però rimane un punto interrogativo la davanti la punta è una valutazione da fare perché Giroud non può giocare sempre il Milan perde Ocafor a gennaio per quello che riguarda la fascia sinistra vediamo si può andare avanti con Florenzi e Bartesaghi anche lì è un punto da fare e poi due difensori centrali non ci sono novità circa i soliti nomi non so se qualcosa è cambiato per quello che riguarda gli eventuali prestiti richiesti dal Milan e per adesso rifiutati c'è l'anglais che potrebbe essere il giocatore più caldo mentre a centrocampo c'è il giocatore Uadraogo che però dicono che venga giocatore dello Schalke 2006 cioè allora prendi Zeroli voglio dire o prendi un giocatore fatto e finito ma per il mese di gennaio non si può prendere un ragazzino del 2006 che sono solo investimenti del futuro quindi il mercato deve essere un mercato purtroppo per le casse del Milan ed ecco un altro problema come vi ho detto che viene dalla che viene dalla conseguente dagli infortuni totali e continui quindi è un mercato che deve essere attivo ma soprattutto deve essere rapido perché se si opta per un giocatore di centrocampo a meno che e secondo me poi alla fine rischiamo che finisca così non si prenda nessuno è chiaro che va preso non a fine gennaio quando poi rientreranno i Benasser quando quando rientrerà Benasser anche se Krunic non c'è e Pobega non c'è ne rientra solo uno rischiamo solo con uno per tutto il campionato vediamo però anche lì bisogna metterci la testa presto a fine gennaio non serve come per quello che riguarda il difensore centrale questa sera con Luca Didi andremo a vedere anche questa parte importante oltre che rilievi tattici nati dalle dichiarazioni di Pioli importante che Pioli proprio anche per il suo per per orgogliosamente vuole chiudere quello che dovrebbero essere gli ultimi mesi al Milan bene Pioli deve riuscire a uscire da questa situazione e farsi ricordare come l'allenatore che ha vinto lo scudetto e non l'allenatore del Pioli out e del Pioli regato agli infortuni mi sembra anche questo che non meriti una situazione del genere ma per non meritarla deve fare anche lui qualcosa di forte cambiando magari parlando con i preparatori io non credo che nel 2023 con tutti i tutti gli diciamo i macchinari i dati che hanno le statistiche che hanno a Milanello in tutte le squadre ormai del mondo non posso pensare che nel 2023 non ci possa essere una soluzione rapida pratica ed efficace per risolvere il problema degli infortuni c'è Milan Lab ci sono dei dati è sorprendente che non ci siamo fermati e porsi e ci siamo posti il problema quando è arrivato il terzo il quarto il quinto il sesto ma bisogna porsi il problema al diciannovesimo anche se probabilmente sono casistiche diverse però non l'ho detto io ma l'ha detto Stefano Pioli non può essere solo sfortuna se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella questa sera appuntamento con Luca Didi